Tra la competizione e la solidarietà, ecco al camping di Norcennia, Figline incisa al primo trofeo girasole, gara podistica a cura tecnica dell'atletica futura di Figline sul percorso competitivo di 11 km e non competitivo sui 5. Con, e questa è la parte che esula dall'ambito sportivo, incasso devoluto alla Fondazione Meyer di Firenze e al Calcit del Valdarno Fiorentino. Sui saliscendi delle colline, alle pendici del Chianti, ecco la vittoria di Francesco Vannuccini della podistica al Campino, tempo di 39 primi 55 secondi per lui. Alle sue spalle il ragazzo di casa Mohamed Alissaduni, classe 84, che ha completato il percorso in 41.8. A chiudere il podio di una corsa contrassegnata anche dalla pioggia, caduta con costanza per gran parte dello svolgimento, Alessandro Tartaglini della Policiano. L'atletica futura ha comunque preso anche il primo posto tra le donne, con Benedetta Bini, undicesima assoluta, 45 primi e 3 secondi il suo tempo. La Valdarnese ha preceduto Francesca Barneschi della podistica al Campino di oltre tre minuti e quindi Elisa Parrini della Polisportiva Oltrarno a chiudere il podio. Da citare per gli over 40, il vincitore Leonardo Fatichenti della Subiano Marathon e per i signores Valentino Rosai, classe 64 del Campino. La gara andava bene, mi è piaciuta, anche se pensavo fosse un po' più lunga.